bentornati su my football jersey oggi vediamo una maglia leggendaria la maglia del brasile dei mondiali del 1998 ovviamente del fenomeno ronaldo in Questa maglia è bellissima Nella mia classifica prende 5 stelle Questo punteggio anche solo perché è la maglia di Ronaldo Qui in alto vedete il costo Su questo non voglio aggiungere altro Fate voi le vostre considerazioni Vedete un po' cosa fare Vi ricordo che in descrizione qua sotto Trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia Soprattutto trovate un link per ottenere un coupon da 3 dollari Quindi la maglia diventa ancora più vantaggiosa Ora prima di lasciarvi la parte finale Mi raccomando lasciate un grande like Ma soprattutto iscrivetevi al canale È l'unico modo che avete per avere sempre nuove recensioni Per oggi è tutto Ci vediamo alla prossima Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa Quella che vedete è una taglia media Della versione Fan Grazie a tutti Grazie a tutti